Si riparte da Roberto Boscaglia, un tecnico preparato che darà una mano a Lentella per fare che tipo di campionato? Un campionato col coltello tra i denti, come è abituato a fare a Lentella. Se siamo in C vogliamo starci poco e quindi aver scelto un mister di grande esperienza è il primo tassello di un lavoro che faremo nelle prossime settimane per arrivare anche ad avere una rosa adeguata al compito che è sicuramente ambizioso, naturalmente come sempre nel calcio vincere non è mai facile però noi pensiamo a quello. Quanto cambierà Lentella dell'anno prossimo? Non lo so, non so dirvi, facciamo lavorare il mister, la filosofia è comune la valorizzazione dei giovani è una delle cose che Boscaglia non si è limitato soltanto a dire in questi anni ma a fare lasciamolo lavorare e dopo il ritiro avremo un'idea più chiara della fisionomia dell'Entella nel prossimo anno. Che Entella dobbiamo aspettarci nella prossima stagione? Un'Entella propositiva, un'Entella che vuole giocare a calcio, che vuole fare divertire ma che vuole vincere le partite. Non è facile, non sarà facile perché comunque ci sono avversari agguerritissimi sicuramente però noi proveremo a farlo nel migliore dei modi. Abbiamo una società forte dietro, abbiamo gente che lavora 24 ore su 24 di conseguenza, ripeto, il nostro lavoro deve essere poi alla fine il valore aggiunto. Che cosa l'ha convinta ad accettare la corte dell'Entella perché dopo tanti anni si rimette in gioco in Serie C lei che era abituata a giocare un altro tipo di campionato? Fare l'allenatore non significa fare l'allenatore in A, B e C, significa fare l'allenatore e basta. È un progetto molto interessante questo, molto interessante in una bella città sicuramente una squadra che negli ultimi anni ha fatto tanto e bene e quindi una società importante che sicuramente qualora dovesse rimanere in C non ci vuole rimanere per tanto tempo.